Oggi voglio parlarvi di un libro, di un autore quasi credo sconosciuto, che però con la sua opera prima ha scritto un libro secondo me fantastico e di fatti ha venduto anche tanto. E quando l'ho conosciuto in libreria mi hanno raccontato la sua storia e lui praticamente è, o era adesso non lo so, un metalmeccanico che la sera quando tornava a casa da lavoro coltivava la sua passione che era quella di scrivere. Scriveva questo libro da tanto tempo ed è uscito fuori, il titolo è Fine. Il libro è questo. La copertina è stupenda secondo me, non so se la vedete bene, ok. Perché ci sono queste persone sospese e solo la copertina, cioè una volta che hai finito di leggere il libro ti dovrebbe lasciare un attimo così veramente, perché già la copertina esprime quello che andrai a leggere. Ve lo cerco di riassumere in poche righe senza anticiparvi niente. La storia di un gruppo di amici che si ritrova dopo 25 anni a rifare la stessa identica serata che avevano fatto anni prima da giovani, con le stesse identiche modalità, nello stesso posto, eccetera, eccetera. A un certo punto succede una cosa che li destabilizza completamente, ma destabilizza un po' tutto il mondo che hanno attorno e da lì usciranno fuori un po' tutte le loro paure e tutto quello che in realtà anche dopo 25 anni non è cambiato e che quindi ha continuato a far parte di loro e soprattutto tutti quegli aspetti dell'amicizia che nonostante l'età sono rimasti un po' come quando erano giovani. Quando ho finito di leggere questo libro mi è venuto da riflettere tantissimo su molte persone che ragionano per quello che è stato, non per quello che c'è. Cerco di esprimere questa cosa meglio. Quando noi siamo a scuola, spesso quando siamo giovani, siamo piccoli, è normale che veniamo etichettati o noi stessi etichettiamo i nostri compagni in un certo modo. Capita spesso però che crescendo noi manteniamo l'idea di quella persona come l'abbiamo conosciuto durante quegli anni e questo difficilmente cambierà nel tempo. E anzi è molto difficile fare in modo che gli altri cambino la percezione che hanno di noi stessi. La riflessione che voglio lasciarvi oggi è quella di cercare di distaccarci dal passato perché spesso l'ho fatto anch'io, ho sempre tenuto legato il passato delle persone che conosco e questo mi dava un'idea diciamo sbagliata o differente, ormai non più loro, di queste persone che io conosco, amici, conoscenti, eccetera. E quindi vi invito di andare alla scoperta di magari come sono cambiati i vostri amici nel tempo, perché magari spesso non ce ne rendiamo conto. Alcune caratteristiche ovviamente rimangono. Ad esempio, non lo so, io mi dimentico sempre tutte le cose, lo facevo quando avevo 15 anni, lo faccio ancora adesso. Oppure mi contraddico ogni 5 minuti, una cosa che dà fastidio a molti miei amici, ci sto lavorando sopra. E quindi, niente, vi invito ad andare a scoprire un attimo come sono cambiati i rapporti tra i vostri amici, conoscenti, genitori, eccetera, eccetera. Se volete trovate il link del libro in descrizione, per chi l'avesse letto parliamone, oppure quando avete finito di leggerlo sono qui. Grazie.